Secondo nucleo. L'attesa. Quindi, il riconoscimento di sé come principio annuncio inizialmente nella materia si intende come punto iniziale della scelta che si opererà, dei mezzi e degli strumenti che condurranno alla soglia del processo del divenire, il cui eventuale risultato sarà l'arrivare a compimento di un essere totale nella stessa esistenza concreta attraverso l'abbeverarsi ed innutrirsi. Anche il processo della nutrizione ad ogni livello è sempre una metafora dell'indicazione che si desidera imprimere in sé stessi per il proprio processo conoscitivo. Mentre alcune fasi di apprendimento sedimentano e producono risultati, è bene non tralasciare niente. Attesa non è arresto. Attesa si riferisce al concetto di tempo e spazio nel quale dedicare sé stesse alla comprensione e all'accrescimento spirituale consapevole. Questa è la fase in cui ci si rigenera, si segue un processo di reintegrazione di sé stessi. Questo è il tempo in cui si potrebbe essere indotti a sostituire la sedimentazione con la fretta, con la necessità di accumulazione di nozioni, di interessi, conoscenze, aneddoti, frasi compiute, microcopioni a cui si riferiscono i nostri pensieri e le nostre parole. Ma questa modalità di impiego di questo tempo, il tempo presente, è un modo per perderlo, quest'unico, irripetibile tempo. Pertanto, il discepolo deve riconoscere il senso del tempo anche attraverso l'osservazione degli eventi celesti che segnano il succedersi delle stagioni, riconoscere gli elementi naturali, i principi simbolici della natura. Nell'osservazione dell'ordine naturale si possono intravedere ed approfondire grandi meraviglie, perfezioni geometriche, ritmi perfetti, coincidenze spaziali, equilibri, suoni e respiri, colori e densità, trasparenze e trame assolutamente imperdibili per colui che si appresta alla perfezione della conoscenza. Il discepolo deve riconoscere con calma, secondo il tempo a lui necessario, tutto quanto gli accade intorno, non muoversi disordinatamente in cerca di qualcosa, ma rimanere nella modesta osservazione delle cose e delle trasformazioni che attraversano la sua esistenza, nella consapevole attesa di poter lanciare la propria giusta freccia nel punto giusto. Il suo unico, nobile scopo esistenziale è comprendere, senza ambizione, senza che vi sia un obiettivo predefinito. Infatti, esso si definisce un passo dopo l'altro, senza fretta, senza fretta davvero, nella modestia dell'approccio. È necessario comprendere, nella profondità di se stessi, che non vi è alcuna meta da raggiungere. Quindi, non vi possono essere tensioni, agitazioni e concitazioni nel processo di apprendimento, in quanto non vi è alcuna meta da raggiungere. Vanno invece attivate di lavoro il loro utilizzo tutte le proprie capacità nel riconoscimento degli strumenti. Infatti, ogni atto di applicazione dell'intelligenza superiore alle attività umane e alle relazioni che normalmente questo comporta, è da considerarsi lavoro, nella sua accezione di nobiltà. L'autonomia dell'azione individuale viene così messa in collegamento con le indicazioni ambientali. Di fatto, l'applicazione di se stesse alle proposte della vita spesso si riscontrano e rivisitano nell'applicazione al lavoro quotidiano. Quest'ambito d'applicazione, considerato spesso solo un contesto scomodo, disturbante, dispendioso energicamente, poco attivante, antipatico, delegabile, rimane un campo fondamentale di misurazione del sé e dello sviluppo attivato ed attivante. Ciò che nell'essere umano in costante relazione e attività si trasmuta viene riportato sul piano della consapevolezza universale. Grazie a tutti!